Corrado Mantoni aveva paura di essere dimenticato. Quasi un'ossessione. A confidarlo è sua moglie, Marina Donato, al Corriere della Sera. Ancor prima di ammalarsi era solito dirmi, nessuno si ricorderà più di me. Gli proposi una scommessa, io dico che non sarà così. L'ho vinta io quella scommessa e so che lui dall'aldilà lo ha visto. Parole piene d'amore, ancora oggi, a distanza di 25 anni dal suo addio. L'amore e le nozze. Marina e Corrado avevano 25 anni di differenza quando è iniziata la loro storia d'amore e si sono sposati dopo 23 anni di convivenza, nel 1996. Un matrimonio segreto. Prima una cena con 200 amici, poi la cerimonia per 22 persone. La cerimonia, ricorda la signora Corrado, fu ufficiata da Rutelli, c'erano solo gli amici intimi e tra questi anche Silvio Berlusconi che all'epoca frequentava molto Corrado. Ma la verità è che nessuno pensava a un matrimonio dopo 23 anni di convivenza, tranne un amico che ci regalò delle lenzuola. Si torna a parlare di Corrado per la corrida. Un programma storico, iniziato in radio e proseguito con successo in televisione. Per molti un talent, per la vedova dell'amato conduttore no, per niente. Ho difficoltà a definirlo talent, il talent lo fa chi vuole emergere, mentre alla corrida partecipano persone che il giorno dopo tornano alla loro vita di sempre. Ci sono state pochissime eccezioni, dalla radio è emerso Gigi Sabani, dalla TV Emanuela Aureli e Neri Marco Re. Gli eredi Alla conduzione della corrida negli anni si sono susseguiti Gerry Scotti, Flavio Insinna e Carlo Conti. Il prossimo, ricorda il Corsera, Sara Amadeis, che sul 9 ripropone un programma che è stato fermo 4 anni. Tre conduttori bravissimi, ognuno con il suo stile. Gerry Scotti ha portato avanti il tentativo di dare una continuità di conduzione dopo la morte di Corrado, ricorda ancora Marina Donato, era profondamente garbato e ironico. Insinna ha fatto una corrida più rivolta al giovani, mirando a un target pubblicitario ben chiaro. Conti è tornato al classico, è una persona sempre rispettosa del prossimo. Il video finisce qui, ma se sei interessato alle news puoi iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti nuovi video.